Allora, mister Capuano, secondo giorno di ritiro, facciamo un po' il punto di come sono andate queste due giornate. Ma, dando buongiorno, è solo l'inizio, è una squadra ancora in costruzione perché abbiamo perso tanti giocatori, però è rimasto lo zoccolo duro, diciamo, quelli che sono voluti rimanere, che hanno sposato questo progetto, è normale che sarà un anno difficilissimo e che dopo quello che abbiamo fatto quest'anno sicuramente le aspettative sono notevoli, invece bisogna andare con i piedi per terra. Ripeto, il nostro unico obiettivo in un campionato così difficile sarà il mantenimento della categoria. Quindi lo dico subito, immediatamente, senza porci limiti. Cercheremo sicuramente di ringiovanire la squadra, di fare una squadra giovane, penso che lo stiamo dimostrando. Sicuramente daremo battaglia su tutti i campi, cercando anche di continuare a fare quel discorso delle plusvalenze, perché penso che, almeno che io ricordi, non è mai accaduto a Taranto in una stagione di fare tre plusvalenze, mai. Poi magari tutti possono parlare, è giusto che si parli, perché io dico che c'è un concetto nella vita che non è lì di conoscenza, ma è la cattiveria illimitata. E pur di non condividere, magari, ma non parlo del Taranto, parlo anche del pizzaiolo, del birraio, si si aggrappa sempre a petticolezzi, a maledicenze vergognosi. Quindi quello che noi abbiamo fatto a Taranto penso che è stato un percorso importante. Poi quando sento addirittura frasi come ho sentito a gente molto esperta che ha buchi milionari, allora mi viene il voltastomaco e corro subito nella toilette, perché se vomito nella cucina magari faccio disastri. Noi l'anno scorso, è bene che lo si dica, perché penso che l'unico a parlare è Massimo Giove, il giocatore che noi era il più pagato era un giocatore medio di interregionale, è forte di eccellenza, lo sto dicendo in mondo visione. Poi abbiamo fatto le cose oculate, abbiamo portato tante gente al calcio, al campo, ci siamo spaccati il culo e abbiamo fatto, nelle plusverenze che almeno che io ricordi, poi forse da Taranto mi possono smentire, nella storia del Taranto in un anno sono state fatte poche, abbiamo fatto qualcosa di importante e vogliamo continuare questo percorso, questo progetto. Avendo ingiovanito la squadra e con grande orgoglio posso dire una cosa oggi, che noi oggi si è portato uno dei 2001 più importanti penso in Italia, di proprietà della Fiorentina, senza mai far uscire questo nome, altrimenti sarebbe stato complicatissimo perché a questo ragazzo il cellulare poi magari squillava in continuazione. Invece noi l'abbiamo portato, lui ha voluto venire in una grande piazza, perché poi il fascino di Taranto è notevolissimo, poi a prescindere tutti gli altri aspetti. E se oggi per esempio si portava, che ne so, una punta importantissima, dico coda, poteva essere anche normale, però lo voglio spiegare questo concetto, è un concetto importante, attenzione, perché magari il presidente spendeva, non so, di una follia, 3 milioni porti un giocatore, ma portare un giocatore giovane, di proprietà di una squadra è importante, e fagli sposare un progetto, vuol dire che hai una credibilità illimitata, non me ne voglia nessuno, almeno fatemi divertire ogni tanto. Quindi ci sono dei limoni che dalla barracca 14 passano alla 15, quest'anno sarà ancora più ampia perché avremo ancora molto più bisogno di barracche per i limoni, e purtroppo dovete sperare, almeno adesso, anche in maniera sarcastica, dopo tanto lavoro si soffre tutti i giorni, almeno qualche cosa, qualche battura sarcastica lasciatemela passare. Il riferimento chiaramente era a Pierozzi, al di là del Blasone, al di là chiaramente del Taranto, quanto è stato importante anche Ezzolino Capuano per chiudere questa operazione? Vabbè, è inutile dire, penso che sono stato determinante, sono stato determinante l'appello con il ragazzo, ma soprattutto i rapporti che mi legano a Daniele Pradè, questo è fuori discussione, però per me è stata determinante la società, perché qui io lo voglio rimarcare fino all'inverosimile, tranne i quattro punti, poi sento parlare, non so sta colpa dei quattro punti di chi è, sicuramente l'aspetto amministrativo non lo faceva Capuano, l'aspetto dirigenziale non lo faceva Capuano, Capuano ha saputo della panizzazione il giorno che l'abbiamo avuto, però detto ciò, io l'ho sempre detto, lo ribiatisco in questo momento perché non devo leccare il culo a nessuno, a noi non è mai mancato nulla, sicuramente però la differenza la fa anche il blasone della piazza, cioè giocare a Taranto ragazzi, ve lo dico fino all'inverosimile, è il volere di tutto il desiderio di pochi, a me mi si fa ridere quando dice ma si fa fatica a prendere i giocatori, io dico che a Taranto verrebbe qualsiasi giocatore. Mister, anche se il secondo giorno come l'ha accolta Vigiano? Ma è una cittadina molto bella, molto carina, ci ha accolti bene, noi cerchiamo di dare quanto meno fastidio possibile, di essere educati e di lavorare, perché noi qui stiamo lavorando, non è che siamo in vacanza, per cercare di fare un campionato digno della nostra città.